Grandstream GXV3674VF è una videocamera IP a infrarossi impermeabile con ottica varifocale che la rende l'ideale per ambienti interni e esterni in cui le condizioni meteo e di luce variano costantemente. Ulteriori dettagli del prodotto. Obiettivo HD a focale variabile regolabile 2,8 mm 12 mm. Velocità multistreaming avanzata in tempo reale e più è integrato. Grazie.